Una piccola brutta casupola in riva al mare. Si trova a Fossacesia, lungo la via verde, edificata un anno fa dalla provincia di Chieti per farne un bagno a disposizione di quanti percorrino uno dei tracciati ciclopedonali più suggestivi d'Italia. Il manufatto in cemento non è mai stato terminato, non ci sono gli allacci alle fogne ed è rimasto lì a riparare qualche bagnante dal cocente sole d'agosto. Quella struttura non si sarebbe mai dovuta costruire, dice il sindaco di Fossacesia di Giuseppe Antonio, secondo cui sarebbe stato meglio ristrutturare i banni della dismessa stazione ferroviaria che si trova proprio lì di fronte. Gli ero detto prima che iniziassero i lavori per evitare di sperperare soldi pubblici. Non sono stato ascoltato, addirittura qualcuno ha detto che avrei dato il parere, questa è la mistificazione poi a volte della verità. Ora si è espressa anche la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio che in una lettera ha chiesto al presidente della provincia la rimozione del manufatto. La toilette con vista sui trabocchi infatti impatta sul paesaggio costiero e questo a prescindere dalla finitura dell'opera, scrive la soprintendenza, perché impatta per la posizione che occupa in un tratto che consentiva la libera fruizione della visuale del mare. Speriamo l'abbattino presto, ha dichiarato al Tg6 il primo cittadino che anzi rilancia con il progetto di un parcheggio sotterraneo. Mi auguro che la provincia accolga la proposta dell'amministrazione comunale di fare come è successo a Riccione. Io chiedo alla provincia stessa di guardare Riccione, togliamo le macchine nell'area anche attigua alla pista ciclabile, cerchiamo di fare un parcheggio sotterraneo nel rispetto assoluto delle norme tecniche, paesaggistiche e ambientali e cerchiamo di fare un'oasi importante che dà risalto e dà valore ulteriore alla pista ciclabile.